Ciao a tutti, lei è innamorata di me o finge? Chi fosse interessato ad avere una risposta a questa domanda, seguo il video. Nel frattempo iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, mescoliamo le carte, tagliamo, giriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere 4 casuali. La carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Allora, pensa a questa lei, della quale vuoi sapere se è innamorata di te o se finge. Prenditi tutto il tempo necessario, questo appare anche il video, puoi farlo ripartire. Dopodiché scegli la carta 1, la carta 2, la carta 3 o la carta 4. Perché hai scelto la carta 1? Diciamo che, sì, ti vede come una persona stabile, una persona forte, per cui c'è un coinvolgimento nei tuoi confronti. Mantieni questo atteggiamento da maschio alfa. Perché hai scelto la carta 2? Ma è una persona che sta facendo un percorso interiore, quindi molto centrata su se stessa, quindi poco verso l'esterno. Non è detto che finga, ma è molto la centratura su se stessa. Che ha scelto la carta 3? Sì, è innamorata o coinvolta. E basta poco perché ha anche un'unione molto solida e duratura. Che ha scelto la carta 4? Ma ti vede un po' superficialmente, diciamo, per cui per coinvolgersi avrai bisogno di più stabilità. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi. Iscriviti al canale, iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere. Di qui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti. Grazie. Grazie.